Ragazzi, Joaquin Correa è della Lazio signori, quindi finalmente arriva al sostituto di Anderson e Joaquin Correa ex Sampdoria, ragazzi ce lo ricordiamo nella Sampdoria, ce lo ricordiamo soprattutto per quel gol sbagliato a porta vuota contro l'Inter, ragazzi clamoroso Però ragazzi è un giocatore di indubbie qualità, è un classe 94, ragazzi 13 agosto del 94, quindi è giovanissimo, 24 anni e ha già una certa esperienza Perché comunque si è fatto due stagioni a Siviglia, vi vedo 47 presenti e 5 golle e ha giocato quindi anche l'Europa League Ragazzi un'ala sinistra, piede sinistro, può giocare anche come trequartista, ottimo dribbling, grande qualità proprio nei piedi, ragazzi Ovviamente un giocatore un po' diverso da Felipe Anderson, Felipe Anderson diciamo più bravo nel dribbling, più veloce e più anche senso del gol Forse Joaquin Correa non è uno che segna tanto, ragazzi secondo me è un ottimo acquisto E denio sostituto di Felipe Anderson, secondo me può portare più continuità Però ragazzi sinceramente vi mentirei se vi dicesse che Correa è il giocatore che ti fa fare assalto di qualità Sinceramente è un giocatore buono, che ci sta, l'abbiamo pagato intorno a una cifra di 25 milioni 4 di presto generoso, più circa 22 di riscatto Però è un giocatore che dà qualcosa in più, ma secondo me non è il giocatore che ti fa fare assalto di qualità Cioè io do via Felipe Anderson, entra Correa, vi dico la verità Secondo me ci guadagniamo per la continuità Felipe lo sappiamo, potenzialmente è fortissimo, ma purtroppo per i suoi limiti caratteriali E anche comunque col modulo non c'entrava molto, col modulo scelto da Inzaghi Li mancava continuità e ha reso poco Anderson per la sua capacità Correa, secondo me è un giocatore più lineare, più continuo Più o meno si equivalgono i giocatori secondo me, però a me io ho un debole Vi dico la verità, per Correa mi è sempre piaciuto, sì dai tempi della Samp Anche nel civile l'ho visto giocare in Champions in Europa E mi ha sempre impressionato proprio per la grande tecnica veramente che ha nei piedi diciamo E quindi ragazzi speriamo faccia bene E allora io non so se questo arrivo di Correa esclude l'arrivo del Papu Gomez Non lo so, non lo so Se lo esclude io forse avrei preferito prendere Gomez Sì è vero, Correa ha sei anni in meno di Gomez Ok è vero, però Gomez secondo me se tu vuoi andare in Champions il prossimo anno Gomez è un giocatore forse più pronto, forse più decisivo Se devo pensare diciamo al presente o comunque al futuro prossimo In prospettiva Correa magari adesso fa due stagioni grandissime Poi lo puoi valorizzare o comunque lo puoi anche vendere a 50 milioni Dico così, o comunque può crescere e migliorare nella Lazio Io lo spero E poi ragazzi nelle ultime ore si è parlato anche di Milan Badel Ex Fiorentina La Lazio si era già interessata perché è svincolato Ma sembravano squadre come Milan, squadre come Napoli Più avanti adesso c'è l'inserimento della Lazio Vedremo ragazzi come viceleva sarebbe il top Perché è un giocatore ottimo, affidabile, conosce la Serie A Cosa importantissima quindi non ha bisogno di ambientamento Comunque in Europa League può giocare tranquillamente anche in campionato E secondo me a centrocampo con Correa e l'eventuale acquisto di Badel Faremo un salto di qualità netto e con tanto che abbiamo già preso Berisha Che è un ottimo colpo Poi siamo sempre lì a vedere se Milinkovic andrà via o no Ma se comunque andrà via Milinkovic arriveranno minimo O uno fortissimo o almeno due giocatori Per andare diciamo a sostituire il suo grande potenziale Signori io spero appunto che apprezziate il video E apprezzate tutto l'acquisto di Correa Fatemi sapere tutto nei commenti Seguitemi su Instagram Il link è sempre qui sotto nella descrizione Signori devo salutare Matteo Monteani Ciao Tommaso Arcuri Ciao E Alessio Martinelli E anche mi viene in mente adesso non l'ho segnato Devo salutare Alessandro Ciao ragazzi Bella